Almeno 30 dispersi, 17 i superstiti recuperati, un'altra tragedia dal mare dopo il naufragio a largo delle coste libiche di un gommone partito in condizioni meteo proibitive. L'imbarcazione si è capovolta mentre i migranti venivano trasbordati su uno dei quattro mercantili presenti in quella zona di mare per il soccorso. A bordo c'erano 47 persone che erano state avvistate venerdì notte ed erano state segnalate al centro di coordinamento delle capitanerie di Porto di Roma da Allarm PON che ora accuse il governo italiano di avere ritardato deliberatamente i soccorsi. La nostra guardia costiera però non ci sta e in una nota sottolinea che l'intervento è avvenuto al di fuori dell'area di responsabilità sarri italiana registrando l'inattività degli altri centri nazionali di coordinamento interessati, vale a dire la Libia e Malta. Roma dopo le segnalazioni di Allan Fon e dell'ONG Siuoc infatti come prevedono le convenzioni internazionali aveva aperturamento SAR ma essendo il gommone nelle acque territoriali libiche poteva soltanto chiedere ai mercantili di passaggio di monitorare la situazione in attesa dell'arrivo delle motovedette del paese nordafricano che non hanno mai lasciato il porto. Non abbiamo mezzi è stata questa la risposta della guardia costiera libica che l'Italia sovvenziona da anni con finanziamenti milionari.